Donald Trump, Kim Jong-un, si incontrano in un vertice storico. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, si sono incontrati faccia a faccia lo scorso martedì a Singapore. La prima volta che i capi di queste due nazioni hanno avuto un colloquio diretto. I due leader hanno firmato una breve dichiarazione con la quale gli Stati Uniti si impegnano a garantire di proteggere la Corea del Nord in cambio della denuclearizzazione della penisola coreana. La dichiarazione congiunta non ha specificato quando o come sarà smantellato il programma nucleare della Corea del Nord. Tuttavia, Trump si è detto fermamente convinto che il desiderio di pace di Kim sia sincero. I due paesi si sono impegnati a proseguire le trattative, sotto la guida del segretario di Stato americano Mike Pompeo e di un funzionario nordcoreano di alto livello. Pompeo ora si trova in Cina, un alleato strategico della Corea del Nord per riferire ai funzionari cinesi in merito al vertice. Più tardi, nella giornata di martedì, il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sospenderanno le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, definendole costose e inutilmente offensive. Trump ha precisato che Kim sta attualmente smantellando un impianto di collaudo dei motori dei missili balistici. Senza dubbio, questo vertice è stato carente di dettagli specifici. Ciò nonostante, il mondo è più sicuro ora di quanto non lo fosse prima. Spero che tu abbia ragione, Romina. Gli esperti della situazione nordcoreana, tuttavia, non sono affatto convinti. Alcuni hanno sottolineato come la dichiarazione firmata da Trump e Kim non facesse che riciclare vecchie affermazioni precedenti, che non avevano portato nessun cambiamento significativo. Ma questo non c'entra adesso. Non c'entra perché mai? Perché il primo passo è la costruzione di un rapporto. Chiara, Trump si è rivolto a Kim esattamente come voleva che ci si rivolgesse a lui. Lo ha definito dotato di talento. Gli ha persino mostrato un trailer in stile hollywoodiano con Kim e Trump protagonisti nelle vesti di eroi impegnati a salvare il mondo. Certamente c'è stata una buona dose di adulazione. Ovviamente dovremo stare a vedere cosa succede dopo, ma l'approccio di Trump nei confronti di Kim aumenta la possibilità di successo. Forse hai ragione. Il mondo, come lo conoscevo io, si basava sull'idea di diffondere la democrazia come fondamento di progresso, sicurezza e benessere per tutti. Stai parlando del concetto di democrazia liberale. L'ordine stabilito in seguito alla Seconda Guerra Mondiale. Non è così? I cui principi sono stati messi in pratica dal mondo occidentale per i successivi 70 anni? Esatto. Ma apparentemente oggigiorno il concetto di democrazia liberale è superato. Quindi forse la dichiarazione funzionerà. Forse il nuovo ordine significa essere amici dei dittatori.